erano rimasti che dovevamo selezionare dove andare pagina perché poi ce ne sono c'è anche la vedova il carbonaio se la fattoria di bauer fattoria dei gartner vi avviso perlomeno stamattina parlano con uno che viene a crossi con me mi ha detto che sembra che stiano facendo un review bombing al gioco probabilmente su metacritic o forse anche sul steam dovrei guardare perché pare che i programmatori qua insomma aveva inserito uno spoiler da qualche parte nel quale al diario o nel diario oppure nella descrizione delle persone io non ho ancora letto le scritte cellulette brevemente non non so spero che lo peccino e tolgono sta cosa comunque si sembrerebbe sensato andare alla fine ancora a provare da fortunato vedere se riusciamo a ricavare qualcosa non so doveva andare se questo qualche giorno la ultima volta che abbiamo giocato buongiorno andrea ti servo qualcosa comunque eviterò di guardarmi potrei mangiare con te fortunato mi sono reso conto che non abbiamo mai condiviso un pasto abbiamo questo un piacere hai fame adesso possiamo poi io ho letto sto alla larga da eventuali spoiler anche su reddit mi è passato di nuovo fuori un cosa in cui diceva si lamentava con se stesso dicendo che non sono bravo a gestire il tempo praticamente abbiamo visto che in realtà c'è qualche come dire non puoi far tutto perché comunque scorre però non abbiamo ancora secondo me non abbiamo ancora incontrato veramente questo problema probabilmente ci sarà tra un po non so comunque non saprei che altro fare a parte della cena adesso comunque una fama da lupo mangiamo allora siamo davvero gelupi cari benedici benedici signore noi e questi tuoi doni che stiamo per ricevere la tua generosità e ti preghiamo di vegliare sulle anime e due innocenti che riposano al tuo fianco mi mancano molto due innocenti mi riparla per cristo signore a un signore amen di vista parlando due innocenti l'area stanca agnes e si ti ha tenuto sveglia dice nient'altro non è un problema ho bisogno di sostegno e io sono felice ha bisogno di sostegno sono felice aiutarla qualcuno deve prendersi cura delle donne di questa città e verner non sembra interessato a farlo se qui non abbiamo ancora incontrato mi sembra no forse sì insomma un presuntuoso un buonomenico allora s è la moglie del mugnaio lo stimato è il dottore sera a sì 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 certo all'autopsia era venuto quello lì se non sbaglio no tutto arrogante che diceva che lui era il medico del paese infatti vedi qua che dice non stimate il dottore diciamo questo è un uomo orribile non hai incontrato saltibanco pretenzioso che pensa di sapere tutto solo perché ha studiato in università importante guarda guarda è la prima volta che vediamo nella frase di qualcuno il nostro ha usato l'archetipo nella fase di qualcuno che faccia che c'è tra l'altro resti medico migliore di lui quantomeno tu ti preoccupi dei cittadini ascolta con e ascolti quando parlo queste portate sono gli stai sulle palle essa merita ben più delle sue misere attenzioni c'era scritto non era moglie mugnaio le donne di tassi sono fortunate davvero come elevatrice agnes e se la moglie mugnaio forse sai che mi sa che la farà automaticamente qui siamo gentili schiediamo questa si è sposata con le nard vediamo non abbiamo visto miss a ebay dove ci sarà il coso no ci sarà il mulino le nard muller strano che tu non l'abbia ancora incontrata è successo qualcosa la fantasma che svolazzava su ha perso un bambino poche settimane fa era felicissima quando aveva iniziato a sentirlo muoversi ma purtroppo dopo poco ha ripreso sanguinare sta faticando a superare il tramo ma ci è già riuscita in passato e ci riuscirà di nuovo avvicino un po microfono allora cosa che c'è da mangiare ravioli sbevi e trotta su pane contatto ok a parte e sopra lì però noi possiamo aggiungere solo il pane pensiamo ai ravioli per me non non gli chiediamo niente a lui mi sa ma rifacciamo amicizia gli stiamo meno sulle palle ora la forza nel suo amore per cristo e per suo marito tutti fedelissimi qua lei lo adora ma nel nard non merita tale dedizione un donnaiolo edite così il mugnaio non è un uomo gentile né con i contadini né con sua moglie anche un violento spargere voci non è un comportamento da buon cristiano agnese alla chiamata niente non è certo segreto quell'uomo si assicura che tutti sappiano quanto potere esercita qui in città non ma ce la fa non sono maci da fare la farina lui sono tutti nei guai e questo il potere che intende prendilo come un avvertimento andreas non inimicarti ma il mugnaio ok proveremo a essere gentile in caso ciao claudio perlomeno mi segnala che sei entrato non ho scritto in telegram perché di solito non dunque la sua crudità probabilmente il motivo per cui ha perso il bambino se ha fatto qualche violenza alla moglie si in realtà e basta sia a magari il karma in te mente di else va salvaguardata da esperienze problematiche il benessere spirituale di una madre importante tanto quanto la sua salute fisica vabbè ok invece è andato sullo psicosomatico ho provato a dire lo stesso a lennard ma sono solo una leviatrice la mia opinione conta poco per un uomo come lui o claudio ci sei preoccuparti andreas è stato tutto visto che ci sia il suo figlio paul a confortarla o ragazzo dolce che adora la sua madre ma l'abbiamo visto mi sembra no mi confondono con mi confondo con bertold io mi sa anche se il signore ha deciso di concederle solo lui resta comunque una benedizione rosso blu verde non ho capito se c'è un senso nell'uso dei colori la cosa migliore che possiamo fare per else e prenderci cura di lei da buoni vicini come cristo ci insegna ma un segnale come dire di pericolo no c'è più se rosso devi stare attento pronunciarlo perché di solito è su un signore su cristo non è l'unica a tassi che da avere un matrimonio difficile noi se non siamo sposati facciamo il cavolo che vogliamo anche la mia brigitte ai suoi problemi che e sua figlia brigitte la moglie di martin bauer è andato con se che non aveva tempo martin assisi ok solito non sapevo che fosse vostra figlia non lo sapevamo né almeno noi unica cura in vita si scute morte tutti i morti la cura della loro anime innocenti dio abbia cura e che sempre rosso non avevo mai dovuto accettare matrimonio merita più di martin bauer questo è poco ma sicuro chiunque sia a priori proprio e lo amo affortunato e prima o poi doveva sposarsi cosa potevamo fare in realtà sai cos'è la raccena probabilmente a meno che non c'è una ragione specifica però ci permette di conoscere i personaggi alla fine no pochino mi bisogna forse fare il giro di tutti ho trovato un uomo che forse non è una merda inutile almeno abbiamo tirato fuori wolf ora ok è il figlio mi sa di loro non loro di brigitte brigitte o brigitte brigitte veramente overwatch adoro adorla che l'emote che dice a brigittissima carinissima per la voce la voce dei doppiatori di overwatch 1 e 2 lasciamo stare sono veramente straordinarie come scelte però in modo che cresca robusto diventerà un bravo taglia pietre ha già deciso gli vuole fare due bicipiti enormi perché deve spaccare le pietre proprio come suo nonno mangiamo prima la trota e cliccate serve mangiare col pane però non ce lo fa fare ora perché non pare l'andreas del tuo lavoro alla pazia dicevi di aver trovato qualcosa di strano all'interno oh 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 vedi 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 vediamo cosa succede strano cioè stavo riparando un muro crepato ok ma sappiamo già immaginavo che fosse quello muro crepato nella cryptal la pazia un tempo era un forte romano dunque non è certo nuova di zecca sono andato a sbattere contro il lievo della vergine si è aperta una porta non potevo crederci va bene un suggerimento che non ci serviva che ho scoperto con il passaggio un dettaglio architettonico affascinante non c'è dubbio anche qua per esempio tornando al discorso del per far finta di essere noi quelli che ha scritto la storia ad esempio allora dicendogli questo in teoria lui dovrebbe acquisire fiducia perché gli mostro sincerità non mostro di un aperto che dice subito le cose come senza me tipo qua mentire no però io non credo che abbiano tenuto conto di queste sofisticatette ma ci sarei matteo la vecchia grazie pieni segreti te lo dico io se me ne dice altri comunque ho infilato la testa attraverso la bottola e una delle suore ha urlato era proprio lì davanti ha infilato la testa c'è mica le scalli non mi aveva raccontato questa parte mi sentivo in colpa per averle spaventate vediamo solo illuminata si sarà preso un colpo dubito che a sword sdena era illuminata quella io ho rivisto un attimino dei episodi vecchi era illuminata quella con cui effettivamente avevamo parlato di più per quello che diceva che forse eravamo amici non era sdena dubito che a sword sdena abbia dato fastidio gli uomini non ne fanno paura anzi solo illuminata si sarà preso un colpo e torniamo un attimo illuminata questa quale se ma siamo usciti da asterix è un buono stile di disegno che ho già visto a qualche parte ma non mi viene in mente dove sono certo che la vista di un uomo misterioso non sia loro del tutto dispiaciuta questo è l'archetipo quello la idonista facciamo i simpatici confortunato anche qui in teoria stiamo facendo una battuta con lui no questo verrà ricordato andrea siamo smacca mascalzone però ok la presa sul ridere la moglie perlomeno avrei fatto meglio bussare prima bussare dove è un passaggio segreto per bussi puoi mai sapere cosa c'è dietro una porta chiusa allora dice c'è qualcuno poi qualcuno dice c'è nessuno perché nessuno ti risponde a proposito del lavoro dovrei rimettermi all'opera c'è tanto da fare dopo la tempesta niente avremmo guadagnato parte qualche piccolo retroscena ma anche la cosa della cripta ma è impossibile mancarlo la cosa la critta cioè ci sono due punti interazione tra l'altro te li fa vedere a priori quindi è stato un piacere averti qui andrea diciamo che un po un limite questo vero anni è sfortunato grazie per l'ospitalità riguardatevi questo verrà ricordato che ci vedremo l'abbazia era pranzo non cena quanto pare ma perché mi confondo l'idea con questa cosa qua c'era brutto tempo fuori per cui sembrava no sembrava sera c'è brutto fu tempo fuori era un po che non giocavamo questa storia della sesta prima è una confusione unica e non se adesso ci che mi stare niente abbiamo fatto molto amicizia con lui non mi ha detto tutto sembra avere molta fretta di andare via in realtà sembrava che lavorasse e aspetto qui forse se ne andrà e potrò osservare le sue azioni aspettiamo qua ma dovrei farlo ora probabilmente mi porterà via un po di tempo facciamolo ora che ti devo dire che vi raffortunato adesso che ci si ripresentano un'altra volta vedi a pesca per fare automatico preferisco così tanto cielo c'è qualche problema con la vasca dei zimmer ma una vasca di zimmer ma menti io sto sto spezzionando per cercare una muffa in grado di curare le emorroidi delle terribili immorroidi a qui tutto tranquillo mi sto solo riposando a eccolo ciao claudio perché la vasca è una sauna questa non ci sono finestre però va bene cosa c'entra vasca con la sauna in casa oppure è l'unica vasca del paese quando uno vuole lavarsi o si butta in qualche cavo del ruscello oppure deve venire qua commentiamo per la maledizione sun anche il fiacro dovreste farvi visitare da quel simpatico dottore giù in città il dottor stolz anche domani alle 10 iniziamo chi guami 2 detto tra noi hanno un guento meraviglioso sicuramente più nemitivo della muffa non dire nulla mai gertner vi nutrono abbastanza mi sembrato un po magro e la testa che è grossi abbiamo fatta così ho prenduto un po di questo pane vi farà bene non c'entra come il pane per fortificare lo spirito come generosa io sto consegnando a padre thomas sapete quanto ama il pane no lo scopro adesso a una vera passione per il pane e il mio cliente preferito ma sarà fornaia questo se ne va si entra dovesse venire la panetteria più spesso andreas ad anna farebbe piacere la bambina bina va bene vedervi è così carina quando cerca di rubarvi il cappello vabbè perdonano ingretto ma mi sono appena ricordato aver lasciato la porta e gertene aperta più tardi piacerebbe ma non potremo discutere un'altra volta devo naturalmente più tardi ma rimasta male non è un po sospettosa una posizione estremale e quello non sente che si sta parlando sino e come finalmente in chiesa e non è nemmeno domenica pensiamo che siamo in chiesa non siamo in chiesa e qui qui la sceneggiatore ha fatto cilecca punto 1 non siamo in chiesa punto 2 siamo appoggiati al muro in modo assolutamente sospetto e sullo spigolo ma questo uno stordito quindi componente visto fortunato è lì e non può non vederlo a meno che la prospettiva non ci inganni mi siete mancato ma va hai visto da qualche parte sul sagrato della chiesa a sollevare pietre veramente veramente sembra che stia pensando perché me lo chiedete ancora questa aveva portato il pane poverizzo padre thomas come sta il mio cliente preferito che tra l'altro anche questa non si sospettisce che non siamo andati dai gertner ah gret è che non posso vivere senza la mia segale segale siete troppo gentili vi prego gustatelo con i miei migliori auguri meglio che vada statemi bene voi due se fate neanche te o cavolo si ci vede ecco fortunato andrea si stava cercando o santo c'era vi ho detto di lasciarmi in pace che ci fate qui fortunato quanto tempo è passato come stai sei ancora arrabbiato molto tempo una sequela di scelte di dialogo un po così comunque questo avete battuto la testa nei dieci minuti passati dall'ultima volta che abbiamo parlato mi stavo seguendo andrea cavolo non dire nulla dio santo andrea sono fatta il finto tonto con me fortunato lascia stare quel power uomo poverino ho perso la testa io e lui stavamo parlando della chiesa va tutto bene dimmi che stato è il mio muro lo è arrabbiato il danno non è difficile da riparare posso farlo la prossima settimana l'anno prossimo lo fa e ora posso rimettere a posto le pietre cadute ah sta parlando della recinzione sarebbe meraviglioso sono certo lo apprezzerebbe anche la signora la mistica pazza ma non correre rischi per favore fate aiutare a qualcuno più giovane che rischi corre serve una mano fortunato ora andiamo a padre Thomas sono certo che saprà gestire la situazione mi offrirei un attimo di essere stato maledetto con il fisico di un miniatore a conciliarci un po non ha risposto vediamo proprio oggi a crossfit ho fatto le sandbag dovevo tirare su 45 kg da terra e metto un mano sulla spada un sacco pieno di sabbia tre volte dentro in un giro che ho fatto sei giri allora il WOD cosa che c'erano? c'erano la prima parte erano i front squat vabbè 7 front squat più 5 push press sempre col bilanciere poi invece il WOD erano 60 salti con la corda 9 burpees over la sandbag cioè fai il salto e dovevi saltare oltre la sandbag appunto per 9 volte poi c'erano 6 pull up cioè quelli di tirarsi sulla sbarra e poi c'erano 3 di quelli lì di alzare la sandbag fino alla spalla buttarla giù e rialzarla 3 volte questo per 15 minuti dovevi fare più giri possibili ne ho fatti 6 no a media era quello 6-7 e tu pensa che c'è sempre la scelta o ne facevo 30 come si chiama? double under si chiama cioè fai girare due volte in un salto fai girare due volte la corda capito? oppure erano appunto single under erano 60 al doppio sempre ma io non riuscivo mai a fare double under bisogna farla giurare velocissima cioè praticamente sei asincrono no? vai fuori di te buon pomeriggio padre Thomas andreas vecchio 8 non c'è ignorato bellamente guardalo stavano andando a pesca e cosa succede? presto affortunato vedi non lavorare troppo eh questo è uscito con la canna e la pesca per venire qui a mettere in piedi il recinto a meno che nel discorso con Otto io gli ho detto guarda che un attimo prima devo lavorare nonostante l'età affortunato è piuttosto possente solo Jorg il il grosso può eguagliare la sua forza Jorg il grosso è quello che abbiamo parlato all'inizio non immagino perché c'era il padre e il figlio tutti e due si chiamano nello stesso modo grazie per i tuoi sforzi e fortunato quello è il modo di sistemare una recinzione è fondamentale nessuno riesce a scavalcare a cosa serve questa recinzione? avesse avesse come dire non so degli animali che rischiano di uscire guarda che è anche una pecora qualsiasi cosa riesce da lì da cos'è al 50 cm più o meno e lì anche la metà ditemi padre Thomas è alle cascate che fortunato e il vecchiotto vanno a pescare allora forse è meglio fare quella più che scappare via comunque padre Thomas perché è sospettoso vediamo cosa dice lui padre Thomas potrebbe sapere dove gli uomini vanno a pescare e quindi ci andiamo ma se glielo chiedo saprà che in realtà sto seguendo fortunato e poi potrebbe riferirglielo perché scappare invece all'improvviso no vabbè fortunato non sarebbe contento soprattutto dopo che ho insinuato che potrebbe avere ucciso Lorenz fortunato non sarebbe contento soprattutto perché crede già che glielo sto seguendo e non è una buona idea inimicarsi un uomo così forte ma non so se è previsto che ci uccidano sai che questo non lo so non so se c'è il game over dubito di potergli tenere testa rincorre arrivederci cioè te lo immagini Matteo dice e riniziare tutto a capo te lo immagini se ci fosse il coso come si chiama il permadef un nuovo davvero eccentrico vabbè un artista scusa ma non ci vede infilati ecco nell'albero ecco perché c'era il buco ce l'abbiamo scoperto perché ah c'era un scogliattolo muovi un cervo volante beh però in quel anche l'ombrico gli dà fastidio oddio quei poveri pesci suppongo sia meglio che lasciarli soffrire beh probabilmente ma io non ho mai visto un pescatore fare una roba del genere però si forse è umano nell'essere disumano non so come dire pare che non è disumano i nuovi uomini fanno di quelle cose orrende che i film horror sono solo stupidate praticamente aspetta un secondo che cavolo vuole sto aspettando che scenda di prezzo ragna rock perché vorrei farlo il problema è che sta a 70 con la PlayStation 5 ho visto che per un attimo era sceso a 62 sono comunque a 8 ero in meno se scende di nuovo a 62 o se scende a 50 meglio se scende anche a 62 forse lo compro però c'è stato tutta settimana Back Friday ma sulle cose che interessavano a me non ho visto neanche mezzo sconto Claudio dice sono gli animali che non fanno ste cose ne fatti fanno cose orribili per esempio ci sono quei quei ragni che iniettano delle sostanze che praticamente sciolgono tutti gli organi dall'interno dell'altro insetto per esempio non le cose più orribili iniettano questa roba e le sciolgono le cose poi c'è quella della mantide religiosa che quando procrea con il maschio poi gli taglia la testa e se lo magna per avere le proteine poi un'altra cosa era certi parassiti da cui probabilmente hanno preso spunto anche Resident Evil che prendono possesso di alcuni insetti e praticamente li portano dentro l'acqua affogano perché loro sono poi si sviluppano lì nell'acqua per dire però ecco sì certamente oppure vabbè tutti poi i carnivori eccetera eccetera che sono non deve essere bello morire sotto dopo essere stato placcato da un leone o da una tigre mentre ti uccide praticamente con denti e unghie però sì quelle sono fatti così come dicevi tu non c'è crudeltà non c'è sadismo l'uomo invece è crudele e sadico in una maniera spropositata in certi casi basta vedere le guerre che c'è nel mondo che sono tante anche adesso fanno di tutto e di più sono entro nei dettagli ma basta guardati anche solo fai due ricerche sulla guerra nel Vietnam per dire con la linea di denti non so oppure i scalpi per esempio ne hanno fatti di tutti i colori veramente perché poi tra l'altro hanno fatto cosa non so se hai visto penso che l'avrei visto cosa come si chiama bastardi senza gloria no gli fanno vedere che super violento poi tirano via lo scalpo ai nazisti no ma lo fa copio non c'è l'ans ecco ho visto hai pensato la stessa cosa oppure pensa alla crudeltà del come si chiama lui adesso non mi viene il nome quel nazista che va a cercare gli ebrei no io per denaro oh ma in realtà siamo lì ah si il mondiale in Qatar appunto ma quant'è che sono morti di operai non mi ricordo se sono 600 o 6.000 addirittura non mi ricordo quella delle due anche se fosse solo 600 comunque una cosa assurda non gliene frega un cazzo si è bravo con l'attore come si chiama il il personaggio non mi ricordo non so se l'avete visto io forse l'avevo già accennato Matteo nostro wikipedia guardatevi Versailles troppo è uno dei tanti che alla terza stagione hanno tagliato 6.000 6.000 morti pagati con un tozzo di pane per fare c'è una roba ma non gliene frega niente ovviamente sono come bestie non so non so come come ragionano certi uomini più sale in la scala peggio sono allora vai suppongo sia meglio che lasciarli soffrire arrivederci 8 o però non sto facendo niente leggi o non leggi lì non c'è proprio umanità menti arretrate si più più preciso dire menti arretrate che ci fa qua cos'è adesso li schiaccia con le pietre vediamo vediamo poi dobbiamo fare ottilia anche aspetta ho portato i fiori c'è la tomba qua è morto qualcuno qua nella miniera per ora non sembra un cattivo uomo questo ascolta nasconde la testona non l'ha vista la testona è cieco vissà che ci fermiamo qua ma si sono stupidati infatti non dovevo neanche andare lì è ipocrisia al mille anche perché i nostri fanno peggio di quelli adesso non stiamo qua a parlarne ma basta leggere il colonialismo che cosa è stato basta leggere la rhodesia la storia della rhodesia che adesso è il congo o della The Beers non andiamo sul politico ma quello che dico io ecco due innocenti eccoli qua due innocenti ah così due innocenti questo è quello che c'è scritto qua è strano ci sono due persone soppolte qui dei bambini forse è probabile potrebbero essere i figli fortunato ecco sai cos'è sarebbe bello che Kiwami a volte ci portasse più su certi argomenti che così abbiamo anche la scusa però effettivamente c'è Kiwami Yakuza effettivamente a questa occasione in cui abbiamo avuto più per Yakuza 0 e i Judgment che per soprattutto il primo che per esempio Kiwami non so se Kiwami 2 permette invece più non so ce n'è uno più politico di altri Claudio degli Yakuza ce n'è uno in particolare ma è più politico degli altri perché ci serve talmente tante cose da dire poi io sono un appassionato di questi temi cioè nel senso io seguo certe cose da 30 anni il 3 è molto politico dice ok immagino che non è ancora cercato Sanctuary come fumetto potrebbero essere i figli di fortunato ma allora perché mai dovrebbero essere sepolti fuori dal sagrato della chiesa beh se non sono stati battezzati forse questo è il motivo è quasi come se qualcuno stesse cercando di nasconderli come se qualcuno stiamo parlando di fortunato e sarà fortunato il 3 è molto politico il 4 è sulla corruzione molto bello cosa è che ti scrivi non ho capito oh ha lasciato un biglietto con i fiori della musica ah di cercare il fumetto ok si si giusto ricorda la ragazza una tomba per due innocenti l'uccello rosso vola ma tuttino capitolo tuttino sappiamo già che è una delle le due ok quindi quando c'è stato mattiniero alle due di notte entro le due di notte è stato mattiniero se no non sei più mattiniero se ti alzi 2.05 basta è giusto è normale calligrafia corrisponde a quello del biglietto che fratello Florian ha trovato sul corpo del barone aspetta questo è un po' distratto qualcuno ha cercato da tirare fortunato nella sala capitolare per uccidere il barone Rothvogel qualcuno ha cercato da tirare resta da vedere se lo ha fatto quindi era forse presente accidenti hai perso fortunato ma dai questa tomba sembra importante per lui ma può essere un momento sufficiente per spingere l'uccidere Lorenz non so però finché non avrò capito chi è sepolto qui dovevo andare a lavorare tra l'altro vespri mangia devo trovare qualcuno con cui mangiare non c'è più niente qua no non c'è più non c'è più